Musica Bentrovati alla seconda edizione del TG6, apriamo con la cronaca. Si sono svolti questa mattina i funerali di Italo De Lisa, il 21enne ucciso con tre colpi di pistola da Fabio Di Lello. Migliaia le persone che hanno partecipato alla cerimonia funebre presso la Madonna del Sabato Santo di Vasto. La famiglia Di Lello ha voluto inviare una corona di fiori come gesto di pace in un clima di rabbia che continua a imperare sulla rete. Francesca Romana Testi È stato il giorno dell'ultimo saluto a Italo De Lisa, il giovane ucciso con tre colpi di arma da fuoco da Fabio Di Lello, il marito della donna morta in un incidente stradale causato proprio da De Lisa il luglio scorso. Un'intera comunità coinvolta in due gravi fatti di cronaca che hanno scosso tutti, le famiglie, gli amici e la cittadinanza. Sono tantissime le persone che hanno partecipato alla cerimonia presso la Madonna del Sabato Santo a Vasto, a poca distanza dal bar dove è stato commesso l'omicidio. Ad accogliere il feretro c'era una banda che ha accompagnato il suo ingresso in chiesa. Musica Un grande silenzio da parte dei presenti e la richiesta di lasciare fuori le telecamere, per un caso di cronaca nera che ha acceso la rabbia sui social, richiedendo anche l'intervento del ministro Orlando, per un appello alla calma e alla riflessione su come il giustizialismo possa diventare l'arma più pericolosa di tutte. Un appello commosso e addolorato era arrivato ieri anche dal papà di Roberta Smargiassi. La vendetta di Fabio Di Lello nei confronti dell'assassino di sua moglie non era quello che avrebbe voluto né la sua famiglia né la giovane donna. Un gesto di pace poi è arrivato anche dalla famiglia Di Lello, che ha voluto inviare una corona di fiori nel giorno dell'addio al 21enne, che come ha raccontato il padre, dopo quell'incidente era già un morto, che riveveva quelle scene nella sua mente ogni notte e scappava da una comunità che sentiva ostile e distante. Tre famiglie oggi unite dal dolore del sangue e dalla perdita del proprio caro. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Fabio Di Lello, comparso questa mattina in carcere davanti del GIP presso il Tribunale di Vasto Caterina Sallusti e dal sostituto procuratore della Repubblica Gabriella De Lucia nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Un faccia a faccia ha durato poco più di due minuti nella drammaticità di un passaggio a dovuto per l'omicidio di Italo Delisa. Non era nelle condizioni e nella serenità necessari per parlare, dicono i suoi legali Giovanni Cerella e Pierpaolo Andreoni. A carico di Di Lello la procura ha formulato il reato di omicidio volontario premeditato e si è riservata più tempo in ordine alla convalida e all'adozione delle misure cautelari. Di Lello era in tuta prima del confronto con i magistrati e aveva avuto il tempo di parlare con i suoi legali. Ed ora nel servizio ascoltiamo invece la testimonianza di Mario Torricello, un amico di Fabio Di Lello. Voglio sottolineare il fatto che Fabio è sempre stata una persona buona, correttissima, altruista e quindi volevo essere testimone di questa situazione. Nel settembre del 2015 ho avuto occasione di conoscere la povera Roberta a Vasto Marina e aveva bisogno di un passaggio. Per fidarsi ho dovuto dimostrare che conoscevo Fabio e praticamente lei ha accettato il passaggio solo e due esclusivamente con il casco fortemente allacciato. Fabio Di Lello già da tempo avrebbe premeditato l'uccisione del 21enne che nel luglio scorso aveva provocato l'incidente stradale mortale di sua moglie Roberta Smargiassi. A sostenerlo Pompeo del Re, avvocato dei De Lisa, dopo aver svolto un'autonoma indagine difensiva oltre ad aver comunicato delle conversazioni avvenute da Di Lello con una persona ora da identificare che segnalava dove si trovasse Italo. Siamo stati convocati dalla procura di Chiara del Rep per verificare le chiamate fatte e ricevute dal cellulare di Di Lello e il traffico e i contenuti del suo computer. In particolare se qualcuno ha avvertito telefonicamente Di Lello informandolo della presenza mercoledì pomeriggio di Italo davanti al drink bar. Un altro aspetto che vogliamo che si indaghi, aggiunge, e ne abbiamo fatto richiesta alla procura se ci sono stati dispositivi sul patrimonio di Fabio Di Lello anteriori all'omicidio di Italo e successivi alla disgrazia della giovane Roberta. Questo può spiegarci l'indice di una premeditazione in quanto atti che potessero far presagire la volontà di spogliarsi dei propri averi in previsione del compimento di un atto estremo come poi così è stato. Del Re segnala che il 1 dicembre 2016 presso lo studio notarile Emanuela Carmina di Cupello Fabio Di Lello aveva firmato un atto di donazione ai propri genitori che avevano accettato dell'immobile di sua proprietà. L'atto era stato poi registrato in conservatoria il 22 dicembre. Ed è stato e terminato invece in tarda mattinata da parte dell'esercito il recupero dell'elicottero del 118 caduto a Campo Felice lo scorso 24 gennaio. Le complesse operazioni per la zona impervia dove il velivolo si è abbattuto erano cominciate stamattina presto. Nell'incidente morirono le cinque persone dell'equipaggio e il ferito che era a bordo dopo essere stato soccorso sulle piste da sci. I resti dell'elicottero sono stati trasportati in località riservata dai vigili del fuoco. Sventato il furto del Bancomat dell'Agenzia Monte dei Paschi a Popoli grazie all'immediata risposta dei carabinieri all'allarme lanciato dal sistema di sorveglianza. Intorno alle 4.30 almeno tre persone con il viso coperto hanno tentato di asportare il denaro contenuto nel Bancomat della succursale in piazza Paolini utilizzando il metodo della lancia termica. Dopo aver forzato una porta posteriore i ladri sono entrati nell'agenzia pronti ad aprire lo sportello Bancomat con la fiamma ossidrica. Il colpo è fallito però come detto perché appena scattato l'allarme due pattuglie della compagnia Carabinieri di Popoli sono arrivate mettendo in fuga i malviventi costretti ad abbandonare gli arnesi da scasso arnesi sequestrati che potranno risultare utili alle indagini così come le immagini delle telecamere. E dentro primavera saranno cantierati in Abruzzo i primi 20 grandi interventi previsti dal Masterplan. Ieri all'Aquila è il punto della situazione del patto per l'Abruzzo alla presenza del ministro per la coesione territoriale De Vincenti. Andrea Costantini. Visita Aquilana ieri per il ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti a Palazzo Silone è stata l'opportunità per la riunione del comitato per l'indirizzo e il controllo per la gestione del Masterplan presente anche il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Al termine dell'incontro il ministro ha espresso soddisfazione per la prontezza con la quale stanno per essere cantierati i primi 20 grandi interventi del patto per l'Abruzzo pur precisando che lo strumento Masterplan è altra cosa rispetto ai provvedimenti straordinari varati dal governo per far fronte alle emergenze dovute alle calamità del mese di gennaio. Per terremoto e maltempo come sapete ieri il Consiglio di Ministri ha varato un provvedimento ad hoc che sostiene le popolazioni e gli interventi di ricostruzione sui territori e di ripresa economica. Il patto per l'Abruzzo è molto importante perché definisce un quadro complessivo di interventi sia nelle zone che sono state colpite dagli eventi sismici e dall'emergenza neve sia più complessivo su tutto l'Abruzzo che aiuterà la ripresa economica e sociale di tutta la regione. Ricordo che la regione ha già fatto registrare tassi di crescita più alti della media nazionale dobbiamo continuare così, il patto per l'Abruzzo è lo strumento per ottenere questo risultato ed è uno strumento di speranza per tutti anche per le popolazioni più colpite dagli eventi di queste settimane. Abbiamo diversi interventi, più di 20 interventi che verranno cantierati in questi prossimi mesi diverse progettazioni molto avanzate con procedura di evidenza pubblica che partiranno molto presto. Io credo che gli investimenti previsti dal patto si cominceranno a vedere già in questa primavera. E tutti i danni diretti e indiretti causati dal maltempo delle scorse settimane saranno risarciti tramite la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio lo puntualizza il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Ascoltiamo. Gli imprenditori della provincia di Teramo che hanno subito danni a causa della straordinaria ondata di maltempo del mese di gennaio saranno risarciti. Lo ha puntualizzato il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso facendo seguito alle polemiche che si sono innescate all'indomani dell'emanazione del decreto legge per il terremoto strumento che mette in campo una serie di iniziative a favore dei comuni del cratere sismico e anche quelli al di fuori del cratere ma con dei danni significativi dovuti al sisma. Per ottenere i risarcimenti dai danni del maltempo però gli imprenditori ed esercenti attività della provincia di Teramo e non solo devono rifarsi alla delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio che riconosce per l'Abruzzo lo stato di emergenza nazionale. Noi abbiamo il decreto legge che si occupa di facilitare la ricostruzione nei comuni del cratere e anche nei comuni fuori cratere che hanno subito danni aumentiamo le risorse umane al servizio dei comuni del cratere per quanto riguarda il lavoro amministrativo necessario si rende pesante la busta paga di chi lavora nelle imprese del cratere si determina lo spostamento degli oneri fiscali e contributivi per le imprese che sono nel cratere. Per quanto concerne i danni da calamità, da avversità atmosferiche c'è la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio che consente il riconoscimento di tutti i danni che si sono determinati in termini di causa-effetto con la nevicata e verranno coperti così come è già accaduto nel 2015. Quali danni sono oggetto di questa mia precisazione? I danni diretti di beni pubblici e beni privati adesso dobbiamo trovare una soluzione per i cosiddetti danni indiretti per esempio un danno indiretto la mancata prenotazione in un albergo in un lasso di tempo nel quale c'è stata una straordinaria nevicata questa è una condizione di danno indiretto che dobbiamo ancora fronteggiare tutti i danni diretti da nevicata oggettivamente dimostrati trovano copertura. Il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano critica il decreto per l'emergenza centro Italia varato del governo perché non includerebbe interventi a sostegno dei danni provocati dal maltempo e annuncia una guerra di emendamenti nella discussione per la conversione in legge. Intanto dal centro-sinistra Gianluca Fusilli ribatte gli interventi per il maltempo sono compresi nello stato di emergenza chiesto da Regione Abruzzo. Alfredo Primante Il decreto varato due giorni fa dal governo a sostegno dell'emergenza che sta vivendo il centro Italia in soli due giorni ha provocato un vespaio di polemiche in Abruzzo già perché in molti si aspettavano misure per il sostegno alla popolazione colpita a metà gennaio dall'eccezionale ondata di maltempo ed invece almeno dalla bozza di decreto e dal comunicato stampa di Palozzo Chigi ci sono solo interventi per il post-sisma e un ristoro per allevatori e agricoltori. Troppo poco, secondo il centro-destra, che con il deputato Fabrizio Di Stefano annuncia una valanga di emendamenti all'atto del passaggio in Parlamento per la conversione in legge del decreto. Può esistiamo che il Presidente si dice soddisfatto. Io ricordo a me stesso che una delle sue proposte principali era la zona franca che non trova traccia, ma al di là della zona franca non si trova traccia di interventi a sostegno degli enti locali che hanno dovuto affrontare spesi ingenti se non l'emergenza, l'emergenza che era con i primi 30 milioni di Euro che avrebbero dovuto essere seguiti dal decreto conseguenziale. Credo che con 30 milioni neanche Teramo o Chieti riescano a coprire le spese e i danni che hanno avuto. Di Stefano critica le dichiarazioni di D'Alfonso che si è detto soddisfatto delle misure governative ed invita il Governo regionale e nazionale ad occuparsi in maniera stringente anche dei disservizi di Enel, Terna e Telecom al fine di ottenere rimborsi maggiorati rispetto a quanto previsto dalla legge. Io voglio capire, ma su questo ci torneremo dopo che avremo capito il decreto, io voglio capire cosa fa il Governo regionale e nazionale nei confronti di queste strutture che hanno avuto una carenza dannosa per il tessuto sociale ed economico della nostra regione. Quindi qui occorre non il risarcimento dei danni come previsti da bolletta da 603 mila euro, ma qui occorre un'azione decisamente molto più forte e molto più netta. Il centro-sinistra affida la replica all'onorevole Gianluca Fusilli. Nella nota il deputato chiarisce che i risarcimenti per i danni derivanti dal maltempo di gennaio sono stati inclusi nella delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio scorso con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, come già accaduto con l'emergenza maltempo del marzo 2015. Nella delibera sono stati riconosciuti tutti i danni diretti a cose pubbliche e private che abbiano un rapporto di causa-effetto con il maltempo. Per i danni indiretti invece si attende una quantificazione oggettiva. E ammonta quasi 250 il numero di stalle crollate nel Terramano a seguito della recente ondata di maltempo che ha colpito l'intera provincia, dato che costituisce oltre l'87% del totale di 282 registrato nell'intera regione Abruzzo nei giorni tra il 17 e il 21 gennaio scorsi. Sono alcuni dei numeri illustrati dai componenti del tavolo di coordinamento delle emergenze zootecniche veterinarie, al quale hanno contribuito personale dei comandi di Carabinieri Forestale, dell'Istituto Zoo Profilattico, della ASDU, della CIVES, Protezione Civile Guardie Ambientali, L'OIPA, Gran Sasso, Laga Park e i servizi veterinari della regione Abruzzo. Soltanto nel settore avicolo si conta la moria di oltre 150 mila polli, così come è ancora in corso il calcolo dei suini uccisi dai crolli provocati dall'eccezionale nevicata in un allevamento di Castelcastagna su una popolazione presente di oltre 11 mila maiali, almeno 3 mila sono scampati ai danni. Analogo discorso per i bovini, 151 decessi e gli ovi caprini, 1.157 decessi. L'amministrazione comunale di Teramo ha varato alcune decisioni in merito agli istituti scolastici. Nel dettaglio la ripresa dell'attività didattica, affardata dal 6 febbraio, quindi da lunedì, nell'edificio Scuola dell'Infanzia De Albentis e nell'edificio Scuola dell'Infanzia Lettieri di Via Diaz. Sempre lunedì 6 la ripresa dell'attività didattica, ma con trasferimento dei plessi scolastici, della Scuola dell'Infanzia Noelucidi, che sarà trasferita nei locali della Scuola dell'Infanzia Via De Albentis. La risorgimento di Via Fraiani sarà invece trasferita nei locali predisposti al Parco della Scienza. La Scuola dell'Infanzia, inoltre ex San Giuseppe di Via Diaz, sarà trasferita nei locali della Scuola Molinari di Piazza Aldo Moro. Restano chiuse fino a nuova ordinanza la Scuola Primaria Piano della Lenta, la Scuola dell'Infanzia Miss Gioia, la Scuola dell'Infanzia di Collaterrato Basso e la Scuola dell'Infanzia di Piano Daccio. Infine restano chiusi l'asilo nido Pinocchio in zona Gammarana e l'asilo nido Accademia Pollicino a Collaterrato Basso. L'aumento delle temperature sta determinando una serie di eventi franosi in ampie zone del territorio della città di Teramo a causa della grande quantità di neve accumulata nei giorni scorsi. Il Comune, stanziando fondi per somma urgenza, ha dato il via a interventi nelle quattro zone di Coste Sant'Agostino, Mezzanotte, Rapino e San Pietro ad Alacum, dove sono in corso interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico e si sta ripristinando la viabilità stradale. Poiché l'entità degli interventi potrebbe richiedere un impegno economico di alcuni milioni di euro, il sindaco interesserà la regione Abruzzo e il governo chiedendo espliciti finanziamenti in regione dell'impegno assunto dallo stesso governatore di adoperarsi per fronteggiare il dissesto idrogeologico. Dalla stessa regione è stata comunicata la formalizzazione della copertura finanziaria per l'intervento in Coste Sant'Agostino con un importo di 750 mila euro, un contributo per il quale, si legge nella nota, il sindaco Maurizio Brucchi ringrazia anche per la rapidità il governatore D'Alfonso. Mauro Febo definisce uno scandalo l'appalto per il servizio ristorazione all'ASL di Chieti. Ha giudicato dopo 20 anni, adesso i lavoratori si trovano a fare conti con una forte riduzione dell'orario di lavoro e del salario. Febo ha annunciato di voler portare la questione nella commissione di vigilanza regionale che presiede. Ascoltiamo. Approderà in commissione vigilanza della regione Abruzzo la gara d'appalto per il servizio di ristorazione per i pazienti dei presidi ospedialieri della ASL numero 2, una gara che si attendeva da un ventennio, vinta dalla RT Dusman Servizi Integrati che ha offerto un ribasso d'asta del 5,82%. La ditta appaltatrice ha spiegato il presidente della commissione di vigilanza, Mauro Febo, così come prevedono le norme assorbito il personale che già lavorava per il servizio mensa, applicando consensualmente una prima riduzione degli orari di lavoro. Ma nel mese di dicembre la stessa azienda ha inviato una raccomandata ai dipendenti comunicando unilateralmente il cambio del contratto di lavoro portato dal contratto nazionale turismo e commercio a quello delle imprese di pulizie. Ma soprattutto, aggiunto Febo, assieme ai consiglieri comunali e provinciali di Forza Italia, ha effettuato una drastica riduzione delle ore di lavoro settimanali da 20 a 7 per gli operatori della mensa. Una situazione che Febo definisce insopportabile e che secondo il centrodestra merita approfondimenti e riflessioni rispetto alle esternalizzazioni dei servizi ospedalieri. Magari qualcuno doveva vigilare e capire perché al massimo ribasso non si è andato a controllare questo ribasso. Forse un errore parte proprio da questo principio perché credo forse che non ci rientro come costi. Se penso che i lavoratori, e parliamo di un'ottantina di lavoratori che hanno visto prima un accordo intersindacale che si sono autoridotti una parte dell'orario di lavoro. Oggi, obbligatoriamente, addirittura l'orario viene dimezzato anche di più. Ci sono gli aiuti cuochi che da 20 ore settimanali passano a soli 7 ore settimanali. Cioè un lavoratore che prima riusciva a percepire 7-750 euro al mese, oggi non arriva a 200 euro. Non so come si possa vivere con 200 euro. Sempre secondo il centrodestra ci sarebbe una riduzione anche della qualità dei cibi serviti. A testimoniare questo ci sarebbe la riduzione da 430 pasti giornalieri forniti a 230-250. Così si dimostra, dicono i forzisti, che i pazienti rifiutano un pasto poco gradito proveniente dall'esterno e non in linea peraltro con la dieta sanitaria. Pasti che vengono prodotti a Pescara per essere distribuiti ai presidi di Pescara, Chieti, Guardia Grele e Torrevecchia. La cucina di Chieti infatti è stata chiusa in attesa di ristrutturazione. Anche qui, come mai da 450 pasti siamo scesi a 230 pasti? Vuol dire forse che i ricoverati non accettano quel servizio, hanno il rifiuto di quel servizio. Su questo farò ampia luce, prima con una convocazione in commissione di vigilanza, ma soprattutto andando con dei tecnici a fare sopra luoghi giornalieri. E' il primo in Abruzzo, lo sportello SOS Anti Equitalia inaugurato a Francavilla al mare dal Movimento 5 Stelle sarà un punto d'ascolto regionale per i cittadini che hanno problemi con le cartelle esattoriali. Il servizio. Uno sportello rivolto ai cittadini in difficoltà con le cartelle esattoriali di Equitalia e questo è l'obiettivo del primo punto civico di ascolto SOS Anti Equitalia inaugurato a Francavilla dal gruppo del Movimento 5 Stelle. L'iniziativa è al momento l'unica in Regione Abruzzo e metterà a disposizione una serie di esperti, commercialisti, avvocati e psicologi che gratuitamente cercheranno di indirizzare verso la soluzione i problemi relativi alle cartelle. Noi abbiamo intenzione praticamente di assistere queste persone, dare consigli, informazioni, quelle prime nozioni che sono necessarie per cominciare ad affrontare la problematica. Poi chiaramente indirizzeremo nei vari professionisti coloro che poi hanno bisogno di portare avanti la pratica. Chiaramente non vogliamo strumentalizzare la questione, però penso che in questo momento c'era bisogno di avere uno sportello come questo. È aperto il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 11, in previo appuntamento, abbiamo una mail, insomma le troverete comunque anche pubblicizzate. E in quella sede poi cominciamo ad affrontare con le persone la problematica, con la documentazione che ci porteranno e cominciamo a dare così i primi ragguagli, le prime informazioni. Lo sportello fa seguito ad una lunga battaglia che il Movimento 5 Stelle conduce dal 2014 proprio contro Equitalia. I grillini infatti più volte hanno invocato l'abolizione della società di riscossione, presentando anche una proposta di legge in Parlamento, destinata a trasferire le competenze attualmente in capo ad Equitalia alla Agenzia delle Entrate. Questo è il primo sportello, ma è un sportello a Valenza regionale. Io ringrazio il gruppo di Francavilla, capitanato da Livio Sarchese, dal nostro consigliere comunale, che sarà il responsabile di questo sportello. Ogni cittadino potrà richiedere aiuto, tutela. È una grande rivoluzione, è una delle tante rivoluzioni che il Movimento 5 Stelle ha messo in piedi in questo paese. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Prima convocazione in maglia Pescara per Montari, che domani quasi certamente sarà in campo contro la Lazio. Per lui posizione classica di Mezzala, mentre il regia potrebbe rivedersi. Brugman con un turno di riposo per Bruno. Ancora fuori causa, Gilardino, Bovo, Campagnaro e Coda torna tra i convocati. Invece Vitturini, il tecnico Oddo, fa intendere che per la partita di domani ci saranno novità, senza però rivelarle. Ascoltiamolo. Esperienza, qualità, perché è comunque un giocatore di qualità. Un giocatore che può trasmettere positività alla squadra, che non deve mai mancare. Perché anche e soprattutto nei momenti difficili la positività non deve mai mancare, altrimenti puoi solo fare peggio. Quindi lui è un giocatore positivo, è uno che è arrivato praticamente nella stessa posizione di classifica in cui siamo ora. Però ha fatto una scelta e è stato coerente. Scalpita, è fuori, non vede l'ora di dare una mano e ci auguriamo che possa darci una grande mano in campo. Ma su questo non ho dubbio. Noi abbiamo preparato una partita per non stare così bassi come lo siamo stati contro la Fiorentina. Però poi ci siamo, dipenderà anche dalla forza della Lazio. In mente ho qualcosa, ma non perché non voglio dire, non voglio dare vantaggi, non voglio far capire che giocatori giocano. Perché sicuramente qualcosa cambierò, perché insomma abbiamo fatto tre partite in una settimana. E che Lazio mi aspetta? Una Lazio che vuole venire a Pescara per vincere. La Lazio è una squadra attaccata al treno dell'Europa, è una squadra a mio avviso molto forte, con giocatori di assoluto valore, che sta rispecchiando credo il campionato che merita, i valori che ha. E quindi penso che una squadra che sia in quella posizione di classifica possa pensare di venire a Pescara, di fare la partita e vincerla. Che clima ti aspetta domenica? Ma il clima domenica, cioè mercoledì non c'era un clima stile. E calcolando tre partite? Sì, poi abbiamo segnato e il clima stile è diventato di supporto, perché questa è la normalità del calcio. E' così da tutte le parti, fino a quando siamo stati sull'1-0 c'era grande entusiasmo. Io sentivo la passione dei tifosi, il credere di poter vincere una partita, ma questo fa parte del calcio e ci aspettiamo questo. Se la partita dovesse andare bene saranno tutti contenti, se la partita dovesse andare male ci sarà contestazione, perché fa parte del calcio. E' così, ce l'aspettiamo, lo sappiamo e noi dobbiamo fare di tutto per cercare di regalare una gioia a noi, ai tifosi, all'ambiente, a tutti quanti. Ballottaggio Keita Lulic in attacco per la Lazio, tridente e completato dall'ex immobile e da Felipe Anderson. L'allenatore Simone Inzaghi invita i suoi giocatori a non sottovalutare la partita di domani e spende belle parole verso il collega e amico Massimo Oddo. Speravo di andare avanti perché volevo andare in semifinale, perché è una competizione per noi importante. Abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo meritato di giocarci questa semifinale e ce la giocheremo con la Roma nel migliore dei modi. Però adesso manca ancora un mese, è normale che se ne parla, so quanto ci tende la nostra gente, però adesso il nostro pensiero va esclusivamente al Pescara. Domani a livello di concentrazione mentale sicuramente dovremo essere sul pezzo, sicuramente più della gara di San Siro, perché affrontiamo una squadra che gioca un buon calcio, che a parer mio ha una classifica bugiarda, si è rinforzata col mercato di gennaio e quindi quello che ho chiesto alla squadra in questi due o tre giorni è di approcciarla nel modo giusto, perché se no potrebbe prospettarsi una partita molto insidiosa, perché giocheremo in trasferta, sappiamo che a Pescara ci tengono questa partita, l'allenatore del Pescara è un amico, è un allenatore molto bravo e preparato e noi dovremmo cercare di approcciarla nel migliore dei modi, perché come ho detto prima il Pescara è una classifica bugiarda che non rispecchia quello che ha fatto in campo. In Lega Pro sarà Antonio Narciso a difendere domani la porta della Teramo contro il Sant'Arcangelo, non convocato Branduani, prima convocazione anche per gli attaccanti Tempesti e Barbuti. Quest'ultimo sarà titolare con Sansovini. Ascoltiamo nel servizio i neo attaccanti Biancorossi, alla vigilia del delicato match, ai microfoni di Ania Cantagalli. Lorenzo, come ci si risolleva da un penultimo posto in classifica con un giro di ritorno già iniziato? Cosa bisogna fare? Bisogna lavorare duro in allenamento. Io per queste situazioni qui conosco solo il duro lavoro e fare gruppo con umiltà. Ho visto una buonissima squadra e spero che già da domenica si inizi a vincere per regalare una vittoria a tutto l'ambiente che serve come il pane. Cosa ti è convinto ad arrivare in una situazione così complicata? No, sì, ero a tutto cuoio che era abbastanza una situazione tranquilla. Stavo giocando con continuità, però appena ho sentito di Teramo ho subito accettato perché sono venuto qui tre volte da avversario e tutte le tre volte ho visto l'ambiente, i tifosi, che mi è sempre piaciuto e da avversario captavo la difficoltà di venire a giocare contro il Teramo. Per me è un'ottima opportunità e spero di sfruttarla al meglio. Tu però sei più una seconda punta, giusto, all'esterno? No, io posso giocare in tutti i ruoli d'attacco. Nella mia precedente squadra giocavo con lo stesso modulo che gioca il Teramo, quindi non ho problemi via nel giocare nella rosa il Teramo. Riccardo, due gol contro il Teramo con la maglia del Lumezzane e con quella dell'Apriglia. Adesso i tifosi aspettano i tuoi gol per il Teramo, però. Beh, sicuramente. Sì, ho fatto due gol contro il Teramo. Adesso mi metto un massimo impegno per segnarli a favore del Teramo e soprattutto a favore della squadra. E spero che i gol portino alle vittorie, soprattutto. Sono venuto a Teramo, anche se avevo altre offerte di altre società, magari messe meglio in classifica, quindi potevo scegliere benissimo la tranquillità. Perché a me piacciono le sfide e poi perché ho sentito subito la stima del presidente, del direttore. E quindi ho sentito persone veramente che ci tenevano e quindi per queste persone e per i tifosi eccetera sono pronti a dare tutto. Teramo Sant'Arcangelo decisa da un gol di Barbuti, come la vede? Beh, ci metterei la firma. Se questo significa vittoria ci metterei la firma. Ma soprattutto prometto impegno e sudore fino all'ultimo minuto. E domani le gare della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie D, partita di cartello all'Aquila, dove la squadra di Morgia riceve la co-capolista Arzachena. Vastese e San Nicolò inseguono invece il primo successo del 2017. Il servizio. I recuperi delle partite del girone G hanno restituito smalto e rinnovato le ambizioni delle due abruzzesi. L'Aquila doveva battere il Rieti e lo ha fatto. Il distacco dal primo posto sarebbe stato altrimenti difficile da colmare. Ora la squadra di Morgia sarà attesa da un altro scontro diretto. Stavolta coi sardi dell'Arzachena, una delle due squadre capaci di battere in campionato, il Rosso-Blu. La posta in paglio, anche in questo caso, è alta. Battere gli isolani, che ora condividono la vetta col Monterosi, vorrebbe dire vendicare la gara d'andata e completare la gancia in classifica. Mancheranno Bonvissuto, appiedato per quattro giornate, e Peluso, che purtroppo per l'Aquila dovrà stare fermo per un mese e mezzo. L'Avezzano invece vuole intraprendere la marcia verso il quinto posto, distante cinque lunghezze. La spinta arriva dalla vittoria sul Sansepolcro, che mette una pietra sopra il K.O. interno con l'Alba Longa di domenica scorsa. Da scacciare c'è l'incubo delle squadre sarde, visto che per i marsicani si profila la trasferta sul campo del Muravera. Squadra impelagata in zona play-out, ma che all'andata è spugnoile dei marsi, dando il primo dispiacere alla squadra di Tortora. Assente lo squalificato Tabacco, punto fermo dell'attacco Padovani, tre gol nelle ultime tre partite. Nel girone F, tra sconfitte, recuperi e soste forzate, è stato un gennaio negativo quello di Vastese e San Nicolò, le due abruzzesi di alta classifica. Per il San Nicolò c'è uno snodo cruciale, contro una rivale di vertice come la Vispesaro al Benelli. La squadra di Epifani, attesa anche dal recupero di Matelica, se vuole rientrare nella corsa primato non ha margini di errore e deve cercare di dimezzare da 12 a 6 punti di ritardo dalla capolista fermana, domani a riposo per il turno previsto col Chieti. Anche la Vastese è chiamata ad una pronta reazione. La vittoria manca dall'11 dicembre, in trasferta dal 20 novembre al Tubal di partita durissima, contro una recanatessa che sta dando forti segnali di ripresa. Chi vuole dare continuità invece agli ultimi risultati è il Pineto, che è uscito fuori dalla zona play-out. Domani avrà a disposizione il secondo match interno consecutivo contro la Yesina. Adriatici a caccia della terza vittoria consecutiva per allontanare la zona pericolosa e avvicinare il più tranquillo centro classifica. Ed è tutto per questa seconda edizione della TG6. L'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per la visione.